Benvenuti nel mondo degli orologi Beuchat. Tra le tante marche di orologi subacquei presenti sul mercato, una si distingue per la sua storia, i suoi modelli e le sue caratteristiche. Si tratta di Beuchat, una società francese di progettazione, produzione e commercializzazione di attrezzature subacquee. Gli orologi Beuchat erano stati appositamente progettati per resistere alle pressioni dell'acqua a profondità estreme, offrendo ai subacquei una strumentazione affidabile per tracciare il tempo sotto l'acqua. Il primo orologio da sub Beuchat è stato lanciato nel 1963 ed è diventato un successo immediato grazie alla sua precisione e alla sua robustezza. Da allora, Beuchat ha continuato a sviluppare una vasta gamma di orologi subacquei, che si adattano alle esigenze di subacquei di ogni livello di esperienza. Alcuni dei modelli più famosi sono il Cronograph e il Mundial. Beuchat si impegna anche a rispettare l'ambiente e la biodiversità marina, sostenendo diverse iniziative di protezione e sensibilizzazione. In sintesi, gli orologi Beuchat rappresentano una scelta eccellente per subacquei che cercano un orologio subacqueo affidabile e di alta qualità. Grazie alla loro precisione, robustezza e design ecologico, gli orologi Beuchat sono una scelta eccezionale per subacquei di tutti i livelli di esperienza.